Spero che sia arrivato Paolo Ferrero, Ministro della Solidarietà Sociale, che io vorrei chiamare al nostro tavolo, mentre lo ringrazio per la sua presenza. Buongiorno a tutti e tutte, sono un po' a disagio intervenire in questo modo perché francamente è un po' per me non molto agevole intervenire su un tema di cui ho visto i dépliants dell'organizzazione ma non ho sentito nulla del dibattito. In più, per ragioni che riguardano l'organizzazione della mia giornata, sostanzialmente intervengo sul tema del pomeriggio e non su quello che avete discusso sin qui. E quindi mi scuso con voi sia perché più parlerò e più contribuirò ad allontanare l'ora del pranzo, cosa non particolarmente gradevole a questo punto, e quindi a rischio di risultarvi particolarmente antipatico e spero di non essere troppo fuori tema perché per l'appunto, intervenendo così. Detto questo, a mo' di premessa, io vorrei provare a intervenire su questo, che è sostanzialmente alcune idee, o perlomeno le idee che per quanto mi riguarda sono le idee guida per ragionare sui processi di inclusione dei migranti, a partire da quello che è il tema sostanzialmente delle forme di integrazione o di inclusione sociale e delle discussioni che sono avvenute anche in questi mesi in Italia a proposito del velo piuttosto che della compatibilità e incompatibilità delle culture e queste cose. Quindi io non intervengo assolutamente su una parte che invece discuteremo oggi pomeriggio in altra sede, di modifiche delle politiche sull'immigrazione per quanto riguarda gli ingressi, la legalità, la clandestinità e quant'altro. Su quello l'unica battuta che direi è questa, io penso che le politiche sinoggi fatte sull'immigrazione sono politiche che hanno combattuto i clandestini e alimentato la clandestinità. Io penso che dobbiamo rovesciare, dobbiamo combattere la clandestinità e non i clandestini. Combattere la clandestinità tentando di portare questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale, che ha ragioni sia nella disparità di ricchezza tra i paesi e le regioni, sia trova un suo fondamento nella richiesta di lavoratori da parte del nostro sistema produttivo e quindi credo che il punto sia questo, insomma, di lavorare alla riduzione della clandestinità e invece la piena salvaguardia, o meglio, la costruzione dei diritti. Detto questo, stando invece più sul tema dell'identità. La prima cosa che vorrei dire è questa, noi ci troviamo a discutere sovente, non solo in Italia, ma complessivamente in Europa, del confronto tra identità diverse che si basano su tradizioni, su fedi religiose, su culture sedimentate di altri paesi e cosa che viene fuori, diciamo, di tanto in tanto anche in forme molto pesanti quando capitano fatti, ad esempio fatti di sangue, che richiamano l'opinione pubblica attorno al nodo dei conflitti di civiltà, come in una sorta di micro guerra fatta sul territorio. La prima cosa che io vorrei dire è questa, che secondo me il tipo di identità comunitarie che vediamo qui e là formarsi in Italia o in modi magari più forti in Europa, secondo me non hanno poco a che vedere o comunque non sono determinate da un retaggio del passato in primo luogo, cioè a me non pare che sia il mantenimento di un'identità del paese di origine che viene semplicemente riprodotto in Italia, ma a mio parere in realtà sono un fenomeno nuovo e il fenomeno nuovo è dato dal fatto che se un immigrato arriva in Italia e non ha sostanzialmente quasi nessuna forma di garanzia o di diritto, a me pare normale che i meccanismi più semplici che scattano sono quelli di forme di solidarietà comunitaria sulla base del tessuto di provenienza che tendono a amplificare e non a ridurre gli elementi identitari dell'appartenenza. Esattamente come i nostri concittadini che andavano negli Stati Uniti hanno dato forma, penso agli Stati Uniti, a forme di identità degli italiani in America che sono rimaste fisse e molto più pesanti, diciamo così, che cosa è avvenuto normalmente in Italia. Cioè la tese che vorrei sostenere è che secondo me non ci troviamo di fronte alla persistenza di un fenomeno identitario, ma in qualche modo di fronte a un fenomeno nuovo in cui esattamente lo spaesamento e la non accoglienza, i fenomeni di non accoglienza determinano la costruzione ex novo di fenomeni di identità pesanti che ovviamente si alimentano di quella che è la storia, sono i materiali, diciamo che ognuno ha a disposizione per costruirsi un'identità, ma secondo me determina un elemento in qualche modo nuovo. Cioè è più il tema di come un individuo si difende in un territorio ostile che non la persistenza di una memoria. Detto questo e considerando questo dal mio punto di vista, grazie mille, è un fatto non positivo, non positivo per nessuno, per chi deve in qualche modo agire un'identità di questo tipo o per la società dove questa si inserisce. Io penso che noi dobbiamo provare a lavorare su una pista di ricerca, su una strada relativa alla modalità di pensare l'integrazione o l'inclusione sociale, che provo prima a descrivere e poi a concettualizzare. Nella descrizione a me pare che il primo punto che abbiamo su cui agire è quello della lingua, nel senso che a me pare che il punto fondamentale su cui lavorare è quello che l'italiano sia una lingua conosciuta da tutti quelli che vengono in questo paese, non nel senso che la devono conoscere prima come qualcuno pensa, ma nel senso che in Italia sia possibile conoscere l'italiano. Penso che questo è un punto fondamentale che permette di parlare con i propri figli anche quando i propri figli vanno a scuola e iniziano ad avere come prima lingua l'italiano, che permette di parlare con gli insegnanti dei propri figli, con i vicini, di fare la spesa, di andare al mercato, permette di guardare un telegiornale, in italiano invece non necessariamente attraverso un satellitare di guardare il telegiornale di qualche altro paese, permette di leggere un giornale banalmente. Quindi io penso che questo è il punto fondamentale, come sempre dire punto fondamentale vuol dire fare una gerarchia discutibile, ma diciamo a mio parere questo è un punto centrale. E penso, ad esempio, che stiamo lavorando su questo, che dovremmo tentare di far sì che il 2007, di provare a lanciarlo come un anno in cui partiamo su questa questione della lingua italiana in tutte le forme possibili. Tutte le forme vuol dire ovviamente la lotta alla dispersione scolastica, nel 2004 il Ministero degli Interni censiva a 320 mila circa minori in età scolare figli di immigrati e il Ministero dell'Istruzione censiva 220-230 mila, vuol dire che abbiamo un tasso di dispersione scolastica, forse non è il 30, forse qualcosa meno, ma insomma significativamente più alto di quello che è la dispersione scolastica per i bambini e le bambine italiane. Però vuol dire lotta alla dispersione scolastica, vuol dire organizzare corsi nel pomeriggio per adulti, vuol dire abbiamo chiesto, stiamo lavorando con le organizzazioni sindacali per rivitalizzare le 150 ore dove sono previste nei contratti, vuol dire penso provare a fare e stimolare la possibilità di fare quelle che una volta si chiamavano i corsi di alfabetizzazione popolare, scuole popolari, insomma tutta quella roba che negli anni 70 in particolare, in parte anche negli anni 80 più istituzionalizzata diciamo sulle 150 ore permise a moltissime persone italiane di prendere le licenze elementari e medie e di imparare a leggere e scrivere correttamente, essendo che questo non era un dato acquisito. In più stiamo vedendo se si riuscirà a fare qualche esperimento di fare corsi di italiano nei luoghi dove in particolare, penso alle moschee ma in generale alle strutture ecclesiastiche tra virgolette, perché non sfugge che tra uomini e donne non c'è lo stesso grado di accesso all'imparare l'italiano, tra i maschi la cosa è un po' più alta, tra le donne è più bassa perché se l'occupazione femminile tra le donne immigrate o è quello dell'assistente familiare, la cosiddetta badante o sovente è di stare a casa e lo stare a casa vuol dire stare a casa, non avere contatti molte volte. E quindi ad esempio l'idea che mentre può essere più difficile per una donna andare alla scuola pubblica al pomeriggio avanti magari è più semplice che si vada nella moschea e che nella moschea ci sia il corso di italiano. Quindi secondo me questo è un punto decisivo, diciamo così, e su cui bisognerebbe tentare di farne un grande processo di partecipazione a tutti i livelli, diciamo, e un grande processo di incontro, di incontro non so come definirlo altrimenti, di inclusione sociale in cui il percorso di imparare la lingua diventa un percorso di inclusione sociale. Questo a me pare il punto principale. Legato a questo io vedo tre altri livelli, uno è quello dei diritti civili, abbiamo predisposto, sono in corso di discussione, di approvazione dei disegni di legge per quanto riguarda la cittadinanza, che riduce a cinque anni il tempo necessario, si dovrebbe riuscire a togliere via nel percorso parlamentare il requisito di reddito, quindi diciamo di togliere una cosa che giustamente è stata considerata un ostacolo sbagliato da parte di chi ha criticato quel provvedimento, da chi l'ha criticato da sinistra, perché c'è anche stata una certa critica da destra che ha avuto una certa qual risonanza. Mi sembra di poter dire che siamo arrivati ad un accordo sul fatto che si faccia la legge sul diritto di voto alle amministrative per gli immigrati sulla base del recepimento delle convinzioni europee. Su questo c'è stata una discussione su che tipo di caratteristica dovesse avere una legge per poter essere una legge costituzionalmente valida per il voto agli immigrati, c'è chi sosteneva ci volesse una legge costituzionale. Alla fine mi pare di poter dire che siamo arrivati ad una quadra e che quindi nel prossimo periodo si dovrebbe poter, attraverso il recepimento della Convenzione Europea di arrivare al voto sugli immigrati. Quindi diritti civili. Secondo capitolo. Sui diritti civili aggiungo una cosa, per quanto mi riguarda anche questo come noto e oggetto di discussione, io penso che sulla cittadinanza si è molto discusso esame, non esame, che cos'è l'esame e avanti. Io penso questo, che come sempre il punto non è tanto l'esame quanto il percorso con cui si arriva al momento. Io considero positivo che ci possa essere una cerimonia in cui c'è la questione della cittadinanza e secondo me l'oggetto di questo, del percorso della cittadinanza è il percorso di poter imparare la lingua e l'accettazione della Costituzione, in particolare della prima parte della Costituzione, essendo che su altre parti della Costituzione anche io avrei da ridire, diciamola così, titolo quinto, alcune modifiche diciamo fatte dal mio punto di vista non eccellente. Però la prima parte invece sì, perché la prima parte è quella che regola la convivenza civile nel Paese e il fatto che banalmente siamo qui stamattina a discutere e si può discutere anche tra opinioni diverse senza pestarsi. Secondo me queste due sono i punti, la lingua è la prima parte della Costituzione, per il resto come dice la Bibbia dice il tuo sì sia sì, il tuo no sia no perché tutto il resto viene dal maligno, secondo me tutto il resto viene dal maligno, nel senso che qualsiasi discussione su codici etici, cose che definiscano dei modelli culturali come punto di rimente per l'essere cittadini italiani o meno, secondo me viene dal maligno, cioè è proprio un errore. Mia nonna girava col fular, mia figlia gira con una minigonna, sono italiane tutte e due, certo avevano idee, avevano perché mia nonna è morta, ma insomma idee molto diverse. Questo non ha mai fatto problema per poter essere cittadini italiani, credo non lo debba fare oggi. Ovviamente quando dico prima parte della Costituzione intendo parità di diritti uomini e donne, insomma intendo tutte le cose che ci sono lì dentro, ed è molto, non è poco, però non può diventare uno stato etico la concessione della cittadinanza a qualcuno che non è nato qui. Non può avere caratteristiche da stato etico dal mio punto di vista e quindi deve essere fermissimo sugli elementi dei diritti ma non sbrodolare in altre cose. Secondo pilastro, i diritti sociali. Io qui penso che noi ci abbiamo un problema di riuscire a equiparare i diritti tra gli immigrati e gli italiani su tutti i campi, che vuol dire sul versante del lavoro fare una legge sugli ingressi che permetta gli ingressi regolari invece che obbligare agli ingressi irregolari come la Bossifini e quindi una legge che preveda l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro non solo fuori dall'Italia ma anche in Italia, perché i datori di lavoro si sono battuti vincendo per molti anni chiedendo di abolire le assunzioni numeriche dal collocamento, risulta difficile pensare che invece adesso siano passati all'assumere gente a 2000 km di distanza senza sapere che facciano, conoscendone solo il nome perché bisognerebbe chiamarli per nome e cognome per poterli assumere, ma è un po' ridicolo pensare che l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro avvenga nel 2006, nel 2007 senza che la gente si conosca. Questo è ancora più ridicolo quando si tratta di lavori tipo l'assistente familiare in cui mediamente la gente almeno prima ti vuole vedere in faccia, diciamo così, per dirla in un modo banale. Allora a me pare che il punto decisivo di quello è fare una legge che permetta l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro sia all'estero, qualora si realizzi benissimo, ma anche in Italia, cioè avere la forma del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro come una delle possibilità, perché altrimenti temo che facciano delle chiacchiere ma non è detto che arriviamo a dei risultati. Gli altri vuol dire i diritti sociali uguali e questo è un fatto, i diritti sociali uguali vuol dire non fare un torto agli italiani, ma vuol dire garantire ai lavoratori, in particolare italiani e agli italiani in più in generale di mantenere i propri diritti sociali acquisiti, perché voi mi insegnate che se si permette in una società che qualcuno abbia meno diritti di altri, prima o poi, per la legge della giungla che sovrasta, diciamo, governa il nostro modo di procedere, fa sì che tutti finiscono con diritti inferiori. Del resto avviene sul piano del lavoro, spostando, delocalizzando le produzioni da un paese all'altro, perché ci sono paesi dove costa meno che da noi, figuriamoci se questo non avviene direttamente in casa, quando non c'è nemmeno il problema di delocalizzare, perché basterebbe assumere Tizio invece che Caio per poterlo pagare di meno. Quindi c'è un problema di mantenimento dei diritti per tutti, come condizione che ci siano per tutti, anche per coloro che li hanno avuti fino adesso. Su questo piano a me pare che il terreno più complesso è quello dei servizi, del welfare, perché abbiamo almeno due terreni che sono i servizi a domanda individuale e la casa dove c'è un vero conflitto di interessi. Mentre sul lavoro mi sembra che, se volete anche come elemento negativo, ma siamo dentro a una segmentazione del mercato del lavoro che tende a ridurre i punti di conflitto tra manodopera italiana e manodopera immigrata, non dico che è un fatto positivo, dico che è un fatto. Invece sull'accesso ai servizi a domanda individuale e sulla casa è un problema, perché in un regime di risorse scarse tende ad accentuarsi il conflitto. Questo però non vuol dire che bisogna fare il welfare per gli immigrati, vuol dire che bisogna fare delle politiche pubbliche serie di welfare su questo. E quindi che la casa, se nell'84 si costruivano 29.000 alloggi all'anno e nel 2004 se ne sono costruiti 1.900, vuol dire che bisognerà ricominciare o a ristrutturare o a costruire degli alloggi pubblici che permettano di avere degli affitti compatibili con gli stipendi delle persone invece che essere incompatibili con gli stipendi delle persone. Così come sui servizi, adesso qua in Emilia Romagna è stato un po' meglio, da qualche altra parte si sta un po' peggio o molto peggio, ma è chiaro che tu devi garantire l'accesso all'asilo nido, cioè il problema è il welfare, non è un altro, quindi diritti sociali. Terzo pilastro dal mio punto di vista è quello del riconoscimento delle identità culturali e religiose. Cioè penso che bisogna fare in Italia una legge sulla libertà religiosa che superi la legge fascista dei culti ammessi fatta nel 1929, culti ammessi perché c'era il concordato che era per Chiesa Cattolica e poi c'erano i culti ammessi che erano gli altri. Una legge sulla libertà religiosa sarebbe stata giusta in astratto, diciamo così, a prescindere da subito dopo la promulgazione della Costituzione. Oggi è un problema politico, perché penso che bisogna fare una legge che abbia la stessa caratteristica della cittadinanza fatta sul versante invece che dell'individuo sul versante dell'aggregazione religiosa. Cioè che la confessione religiosa riconosce la Costituzione italiana come l'insieme di regole che regolamenta la vita sociale, civile e religiosa del Paese e in cambio lo Stato italiano riconosce le confessioni religiose. Cioè ci deve essere un meccanismo, adesso dire di dare e avere non è bello, ma insomma quella roba lì, di reciprocità. grazie per il prezioso suggerimento. Quindi legge sulla libertà religiosa. Questi qua secondo me sono i tre pilastri fondamentali. Rispetto delle identità culturali, culturali, religiose, di fede, riconoscimento dei diritti dell'individuo e riconoscimento dei diritti sociali. Secondo me queste tre cose qui sono i punti fondamentali assieme a quello della lingua che appunto è la condizione per poter avere un dialogo su cui lavorare. Da questo punto di vista il modello sociale a cui secondo me bisognerebbe tendere non è né un modello comunitario, si usa il modello inglese anche se è molto più complesso quello inglese, ma insomma non è un modello comunitario in cui lo Stato italiano riconosce le comunità e in qualche modo ne favorisce l'aggregazione e poi tratta con i vertici della comunità. Cioè non è un modello corporativo sia pure aperto con le identità culturali. Non è nemmeno un modello assimilazionista che normalmente viene identificato con quello francese, in cui in qualche modo la categoria del cittadino tende ad uniformare. Io penso che debba essere un modello in cui vi sono dei diritti garantiti per tutti, sociali, civili, religiosi, che questi hanno come corrispettivo, che tutti accettano le regole del gioco, diciamo così, della civile convivenza e che però questo permette quindi che ci siano diverse identità come condizione normale, ma che queste non si debbano per esistere aggregarsi in forme chiuse. Tradotto in italiano per me vuol dire che così come non verrebbe a nessuno in testa di chiedere se uno è prima italiano o prima cattolico, io punterei a un modello sociale in cui non venga in testa a nessuno di chiedere se è prima musulmano o prima italiano. Perché le due cose, ripeto, nell'accettazione delle regole del vivere civile e della Carta Costituzionale non devono porre un problema di gerarchia o di elidersi. E quindi un'idea dove le identità diverse possano coesistere e dove per l'appunto per difendere i propri diritti non si sia obbligato a trincerarsi dentro comunità chiuse che tendono a riprodurre identità chiuse ed escludenti. Punterei ciò a un modello sociale dove le identità diverse siano riconosciute e proprio per questo siano modificabili. Perché la condizione affinché un'identità si possa modificare è che tu non sia obbligato ad impiccarti a una forma fenomenica di identità per poter salvaguardare te stesso. Esattamente come mia nonna aveva il fulare, mia figlia ha la minigonna, questo è potuto avvenire. Esattamente, ma potrei fare delle cose più articolate volendo, diciamo così, per cui la mia compagna ha fatto la confermazione valdese non usando il costume valdese per protesta, diciamo così, le ha fatte in jeans. Invece mia figlia è entrata nella chiesa valdese con il costume valdese, tutta contenta mia madre, ma insomma, cioè le cose e invece i genitori della mia compagna non erano così contenti. Però queste cose qua sono possibili esattamente perché la tua identità personale non è obbligata e quindi è immobile. Quindi io punterei, diciamo così, a lavorare su questo affinché sia possibile cambiarle le identità, cioè le identità non siano fisse. Attenzione, non vuol dire che non esiste l'identità, vorrei che fosse chiaro, io farei l'elogio della presenza di identità individuali e collettive, ma secondo me il punto è che non siano fisse in un modo squadrato, diciamo così. E così come secondo me l'altro punto sia possibile avere delle identità, che le persone possano avere delle identità plurali, cioè dove sia possibile essere maschio, comunista, valdese, valdese, italiano e queste cose qua stiano assieme e non si sia obbligati appunto ad essere o italiano musulmano o identità plurali. Io penso che questi due punti, identità plurali, identità modificabili, sono il nodo per evitare, diciamo così, che questa simpatica situazione in cui siamo finisca nella guerra civile. Ovviamente noi lo, adesso stamattina io ne sto ragionando dal punto di vista del rapporto con gli immigrati e secondo me vale in generale, cioè le identità padane costruite sul, inventandosi una tradizione che non esiste come sempre e costruite sulla terra e sul sangue, alla fine diciamo, queste robe qua sono forme di identità, di proposizione, di identità fisse, immodificabili, escludenti e in cui le diverse identità, l'essere operaio, svaniscono dentro l'identità legata alla terra. Ecco, io penso che queste sono forme di identità reazionarie che noi dobbiamo lavorare, secondo me non si può usare il termine combattere, perché combattere sembrerebbe che tu hai un'altra identità altrettanto forte che si confligge con quella, invece io penso che vanno smontate. Vale per l'identità padana, vale dal mio punto di vista per l'identità pakistana chiusa o indiana chiusa, cioè di lavorare al non rendere obbligatorie attraverso l'asciugatura dell'incertezza sociale, identità chiuse e lavorare ad un modello in cui le identità appunto siano modificabili e plurale. Questo lo dico, sto quasi finito, non preoccupatevi, in un'idea dal mio punto di vista che esistano dei conflitti positivi e che sono i conflitti dove la logica non è amico-nemico, cioè non è che io vinco distruggendo te, ma è una logica del dire io vinco nella misura in cui modifico te e modifico anche me stesso. Secondo me il conflitto di classe è un classico conflitto di questa natura, in cui, e lo si vede, lo si vede, se uno fa la storia di questi ultimi 50 anni, vede come quando il conflitto di classe è stato molto forte ed ha prodotto forti avanzamenti, ha modificato significativamente la borghesia, non è che non l'ha modificata. E oggi che il conflitto di classe sta messo molto male, c'hai una borghesia che tende a produrre colture devastanti, per cui tipo... Sì, no, la lotta di classe... Ah beh, certo, ovviamente, solo quello di liberazione è un... l'altro è l'espressione di un dominio. Parlo sempre dei... Certo, no, certo, ovviamente, chiedo scusa, lo tendevo a darlo per scontato, ma evidentemente neanche questo può più essere dato per scontato. Nel senso che secondo me i conflitti di questo tipo sono conflitti positivi, che modifichano la società e possono farlo. Viceversa i conflitti che sono basati su forme di differenzialismo totalitario, cioè appunto di la terra, il sangue, queste robe qui che abbiamo già visto all'opera negli anni 10 e 20 del Novecento e poi tragicamente 30 e 40, che tendono a riproporsi oggi, secondo me sono forme di conflitto assolutamente non progressive, nel senso che non essendo dialettiche non permettono la possibilità che il conflitto determini una sintesi più avanzata o comunque una dislocazione del conflitto a un livello più avanzato, perché invece tendono a leggere nella soppressione dell'altra la propria vittoria. E quindi, adesso non voglio qua entrare, perché invece penso che il femminismo è una forma di differenzialismo non totalitario ma relativo e che quindi invece sta lì dentro, ma adesso non voglio pigliare un altro filone che da solo porterebbe via ore e mi esporrebbe al rischio di critiche terribili. E quindi la fermo qua dicendo che io penso che la strada su cui marciare dovrebbe essere un po' questa, che quindi diciamo così si basa su questi tre pilastri più la lingua, non uso i quattro pilastri perché se no sembrano le politiche sulle droghe che non va bene e con appunto dietro di sé un'idea di come si costruisce un'identità plurale che sia modificabile. A me questo pare finito, che sia possibile farlo in Italia. Noi abbiamo due grandi fortune, che l'immigrazione in Italia arriva dopo che in altri paesi, per cui possiamo vedere gli errori fatti da altri e quindi cercare di non ripeterli, perlomeno di farne di nuovi. E l'altra è che l'immigrazione in Italia non è arrivata nella fase fordista, ma è arrivata nella fase post-fordista. Per cui invece che avere le banlieue come avevamo negli anni 50 con l'immigrazione meridionale a Torino piuttosto che a Milano, c'hai un'immigrazione che in larghissima parte è dispersa sul territorio, il che rende più possibile un lavoro di questo tipo, purché lo si voglia fare. E perché lo si voglia fare necessita di tre cose. Uno di modifiche legislative nazionali e questo sarà l'oggetto di discussione politica anche più pesante di come adesso, diciamo tra gennaio e febbraio. Due risorse che ripeto non sono in larghissima parte risorse per gli immigrati, sono risorse per il funzionamento del welfare, fatta salva se volete, questa della lingua italiana che chiede un di più e delle necessari percorsi di mediazione culturale e linguistica che vanno fatte nel frattempo, che chiedono un di più ma il resto e grossomodo l'estensione dei servizi. Quindi richiede una modifica legislativa, delle risorse per il welfare, cioè un'idea di welfare non come costo ma come investimento di infrastrutturazione sociale per tenere una società all'onor del mondo. E la terza è che chiede delle modifiche, delle pratiche politiche, non solo delle leggi, del modo di funzionare, perché noi oggi abbiamo una legislazione molto brutta, ma di più abbiamo ancora delle pratiche, essendo che quella legislazione non era frutto così di qualche cattivone, ma di un'idea che è diventata egemone in larga parte, noi abbiamo delle pratiche negative che magari vengono fatte anche da chi ha parole contro la legislazione bruttissima. Io penso che abbiamo un problema di modifica delle pratiche, che non è garantito dalla modifica della legislazione. A me è capitato in punti di vedere, per esempio di Torino, un camponomadi, piccolo camponomadi, c'è un incendio, il comune dopo un quarto d'ora che c'è l'incendio spiana il posto dove c'è il camponomadi, tira il fossato. Tutti i bambini del camponomadi andavano a scuola, alla scuola elementare, che è una cosa per cui uno ci passa degli anni di lavoro per riuscire ad ottenere il risultato, invece lì c'era il risultato e il sindaco del comune dove c'era il camponomadi dice io non li voglio più e quindi chi se ne frega. Ora, si è rimontato un camponomadi grazie a Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, il gruppo Abele, cioè grazie al fatto che esiste una società civile degna di questo nome, a differenza di comportamenti a volte dei decisori politici, si è ricostruito un campo, poi si è aperta una trattativa in cui il prefetto ha giocato un ruolo positivo e si è ricostruito una cosa in cui si garantisce a quei bambini di continuare ad andare a scuola, dove andavano, ma di situazioni di questo tipo, voi me ne potreste raccontare qualcuna, ce ne sono tante, in cui la politica sta più dalla parte del problema che non dalla soluzione del problema. Ecco, io penso che noi abbiamo un problema di modificare le leggi, di mettere le risorse sul welfare, ma anche di costruire un ragionamento non minoritario, non minoritario, che arrivi ad incidere pesantemente. Ed è anche questo, adesso questa la dico con una battuta, ma è il motivo per cui ad esempio il sottoscritto opportunisticamente, se volete, ma non mette al primo punto di ogni discorso sull'immigrazione e la chiusura dei CPT. Perché se io mettessi al primo punto di ogni discorso sull'immigrazione e la chiusura dei CPT, so già che il risultato è vero. Penso che il problema è di avere un percorso che purtroppo per chi ci finisce dentro ai CPT non gli risolverà il suo problema individuale, mi è chiarissimo, ma chi fa politica deve anche saper pagare il prezzo di mediazioni che moralmente sono discutibili, eticamente li percepisco per quanto mi riguarda come discutibili, ma che per puntare all'efficacia ti devi porre il problema di come modifichi la legge a partire dalla non produzione di clandestinità, di come modifichi le procedure che non obblighino la gente ogni sei mesi o ogni anno a fare le file e non avere i permessi e che dentro questo percorso c'è il superamento barra chiusura dei CPT, ma dentro questo percorso, se tolto da questo percorso è uno scontro in cui noi pesiamo per il 10% della popolazione e il 90% sta dall'altra parte e quindi non ce la fai. Chiusa con questa battuta sull'opportunismo, vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro.